Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato. Il nemico ha trovato. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato il contenitore. I difensori hanno eliminato tutti i nemici. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Sei in una zona controllata dal nemico. Lasciala subito. Ti hanno visto. La squadra del campo ha trovato la bomba. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. 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 Ancora 5 secondi. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Il nemico ha trovato il contenitore di Oridio. Attività nemica. Tornate a trovare il contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Cambio caricatore!